Musica Vediamo, 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 vediamo dove posso andare questa volta in vacanza Ormai il camerino l'ho messo un po' comunque Oddio Ah, ciao Ma voi volevate le previsioni Scusate, eccole Sola palla, cari amici, su Cremone e la Lombardia è sabato Quindi prenotate tranquillamente il vostro lettino in piscina se restate in città Abbronzatura assicurata per tutti Anche se viaggerete in lungo e largo per l'Italia Da nord a sud, Sol Leone Comunque ragazzi, ricordatevi che su CromTV splende sempre il sole Ciao 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 Grazie per la visione!